Oggi parliamo di problemi adolescenziali, di amori, di sofferenze e di gesti forti. Iniziamo! Amici, bentornati su Reacenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Nella puntata di oggi parleremo di un libro e del corrispettivo film che io in realtà pensavo di aver già trattato anni addietro quando lo avevo letto e visto. Questa è la mandria di sopra. Già è finita la scuola. Però poi mi sono reso conto che probabilmente il mio legame empatico con questo racconto mi ha preso talmente tanto che non riuscivo a parlarne. Per questo pensavo di averlo fatto e in realtà non è così. Me ne sono accorto perché a luglio ho scelto come lettura sulla diversità della setta dei libri The Danish Girl e vi avevo proposto appunto questo libro. Ma in realtà appunto non ne avevo mai parlato. Siccome poi si sta legando almeno come sentore, come narrazione al libro sempre della setta di settembre, ho deciso che è venuto il momento di darmi un grosso pizzico sulla pancia e di parlarne a voi. Ogni riferimento ovviamente è nel titolo e nella copertina per cui bando ai misteri sto parlando di Noi siamo infinito che in Italia è stato pubblicato inizialmente con il titolo originale Ragazzo da parete. Questo titolo è legato al concetto ragazzo da parete che si riferisce ai ragazzi tappezzeria, ossia quelle personalità che dove le metti le metti li stanno e non cambiano. Come se nella società o nella vita stessa del singolo avessero poco peso, poche aspettative e soprattutto una scarsa voglia di relazionarsi con gli altri. Per cui vengono indicati questi ragazzi così sensibili, così introversi, come appunto gente da tappezzeria, un divano, un soprammobile che sta lì e lo troverai quando ti serve. Ovviamente non è così e questa storia ce lo dimostra molto bene. L'edizione che ho io è questo cartonato che è uscito subito dopo il film, infatti in copertina abbiamo i tre interpreti e soprattutto il titolo già è cambiato, Noi siamo infinito. Il costo di quando l'ho comprato io era di 16,90 ma se non sbaglio è sceso di molto. Comunque sia trovate i riferimenti per acquistarlo qui sotto in descrizione con i link affiliati se volete aiutarmi. Lo scrittore è questo Stephen Sbosky, spero si pronunci così, che poi è stato chiamato anche a adattare la sceneggiatura per il film e a fare da regista per la pellicola stessa. Il protagonista di tutta questa narrazione è un ragazzo di nome Charlie che racconta il proprio vissuto, la propria vita attraverso un diario per cui questo in realtà è un romanzo di tipo epistolare. Come si intuisce da quello che ho detto prima, Charlie è un ragazzino molto riflessivo, introverso, molto timido, riservato e chiuso in se stesso. Ma allo stesso tempo è ovviamente un ragazzo molto intelligente, molto riflessivo, con uno sguardo molto attento a quello che lo circonda e soprattutto a quello che è all'interno di se stesso e che cerca così di interrogare e di trovare una risposta in quella che è appunto la sua vita, il suo sentirsi diverso. Il racconto di questo diario parte nell'agosto del 91, 1991, quando Charlie inizia il suo primo anno alle superiori. Sappiamo quanto sia difficile lasciare un percorso di studi, un ciclo di vita e soprattutto iniziarne uno così complicato come è quello delle superiori nel quale non solo le amicizie cambiano ma cambia anche il proprio corpo, la propria mente si sviluppa e quindi le difficoltà sono molte. In queste difficoltà ovviamente cerchiamo sempre quell'ancora di salvezza, quell'anima affine con la quale crescere in compagnia e Charlie la identifica in un ragazzo che però rimane anonimo in questo racconto, in queste lettere, ma è proprio a questo ragazzo che Charlie decide di scrivere e di indirizzare la sua vita. Nel raccontare di se stesso a questo ragazzo, Charlie esplora la sua sofferenza, la sua condizione e soprattutto inizia a raccontarci allo stesso tempo, come a questo ragazzo, anche a noi lettori, quella che è la sua esperienza di vita sino a questo momento. A peggiorare la situazione di questo ragazzo all'inizio di questo nuovo ciclo della vita è il fatto che poco prima dell'inizio dell'anno scolastico il suo migliore amico muore suicida e poco prima degli eventi narrati in questo racconto scopriamo anche che Charlie aveva un forte legame con la zia Helen e che purtroppo anche lei è venuta a mancare. Venendo così a mancare questi due pilastri nella vita di questo ragazzo così sensibile, delicato e profondo, capiamo benissimo che c'è una grande destabilizzazione nella coscienza di questo ragazzo. Destabilizzazione che ovviamente si riflette poi anche nel modo di vivere del ragazzo stesso, che si lascia forse un po' trascinare dai nuovi amici che trova alle superiori che lo indirizzano per così dire, non che lui non abbia le sue, tra virgolette, colpe e responsabilità, a una vita un po' più dissennata e un po' più esplorativa avvicinandosi così all'uso di alcol e di sostanze. Charlie però non è così isolato da non provare sensazioni e sentimenti verso alcuno, anzi c'è una ragazza di nome Sam, che qui vediamo interpretata da Emma Watson, cui è particolarmente interessato e cotto. Questa ragazza, che sostanzialmente gli fa capire che almeno nel film non c'è trippa per gatti, decide però comunque di essere sua amica e nella relazione che si instaura fra questi due rientra anche il fratello di lei, che è Patrick, omosessuale. Il problema di fondo di questa amicizia è che se questi due fratelli tentano di spronare Charlie, Charlie arriva sempre a quel limite che sente nella propria vita e che non riesce poi a valicare, a comprendere e a valicare. Ed è forse proprio per sentirsi meno chiuso, racchiuso e appesantito dalla sua condizione che si lascia poi trascinare in queste esperienze, possiamo dire, un po' estreme che fa con questi due fratelli. Coinvolto emotivamente da tutto quello che vive attorno a sé, che si riflette poi all'interno della sua psiche, della sua vita così fragili, Charlie si sente un po' sballottato, tirato da un lato e dall'altro. Ed è proprio in questa incertezza, insicurezza e in questo mare in piena di sentimenti, emozioni e sensazioni, anche attraverso il racconto del ragazzo quando è sotto effetto di alcol e fumo, che il racconto sembra quasi sporcarsi di sensazioni oniriche, nelle quali il ragazzo sembra spingersi sempre oltre, anche in esperienze molto crude e carnali. La confusione di Charlie viene poi amplificata molto di più nelle scene del film, anche se, a dire la verità, nel film le allucinazioni che coinvolgono il ragazzo sono anche meno descritte, a differenza del libro dove in pratica prendono quasi il sopravvento arrivato a un certo punto, perché proprio in questo punto Charlie quasi non riesce a distinguere più la realtà dalle allucinazioni. Sentendosi un poco su questa linea a metà fra i due mondi, mettiamola così, inizia a destabilizzarsi ancora di più e a poco serviranno poi le sedute dallo psicologo che tenterà così di rimetterlo un po' in piedi, ascoltando semplicemente quello che il ragazzo ha da dire. Altra grande differenza che troviamo nel libro a dispetto del film è che appunto nel libro il racconto essendo scritto e raccontato attraverso le pagine di un diario il protagonista è anonimo, per cui noi non conosciamo in realtà come sia fatto questo Charlie, ma solo quello che vuole raccontare a questo amico anonimo. Nel fare questo si sfrutta uno stratagemma che aiuta il lettore a entrare all'interno della vicenda, simpatizzare con il protagonista, proprio perché è questo suo essere anonimo a dare la possibilità al lettore di calare la propria vita in quella del protagonista, perché la propria vita diventi quella del protagonista ed è una trovata importantissima perché riesce a costringerci a empatizzare senza violenza con quello che sta vivendo il ragazzo. La confusione che quindi vive Charlie arriva a un momento molto basso della sua vita e ha un gesto molto drammatico che compie. Questo avviene quando il ragazzo inizia a vivere molto più intensamente la relazione di amicizia con Sam e Patrick e soprattutto quando forse proprio per le allucinazioni che vive e che sperimenta a ricordare esperienze del passato che lo destabilizzano ancora di più. Domande su domande, dubbi su dubbi che non riescono a trovare una vera risposta e che probabilmente neanche un adulto si porrebbe e riuscirebbe a rispondere. Tutto questo è troppo per Charlie che quindi decide di annullarsi. Come vi ho detto non sono riuscito a fare a meno di creare forte empatia con questo personaggio, con questo ragazzo e soprattutto con la sua sofferenza e la sua vita. Il modo poi di scrivere di questo autore è talmente semplice e scevero di qualunque costrutto ma anzi riesce con la sua semplicità a pungere sul vivo il lettore che appunto è ancora più semplice diventare prossimo di questo ragazzo. Allo stesso modo poi probabilmente perché scrittore di questa storia nella sua sceneggiatura e nella sua regia molti di queste sensazioni vengono riproposte nel film stesso e funzionano alla grande ed è per questo che io consiglio di leggere il libro e di vedere il film in conseguenza l'uno tra l'altro perché appunto sono uno un compendio dell'altro come se appunto fossero un'unica opera e il fatto che entrambi funzionano quasi in sinergia tra loro ci permettono di avere più strumenti e più punti di vista per comprendere la vita di questo ragazzo. Nell'evocare quindi la sofferenza la delicatezza e sensibilità di Charlie lo scrittore sceneggiatore e regista ci rievoca la scena forse più forte che mi ha colpito che vive Charlie con Sam che capisce che il ragazzino non ha avuto grandi esperienze non ha mai baciato nessuno e da amica si propone di essere il suo primo bacio. Una delicatezza che in Sam nel film difficilmente riusciamo a percepire ma che in questa scena ci rende tutta la bellezza la genuinità dei personaggi e soprattutto la delicatezza cristallina di Charlie che così quasi a far capire la sua difficoltà riesce a strappare un bacio alla ragazza di cui è innamorato. Trovo questa assieme a una delle scene finali nelle quali Charlie sale sull'auto in corsa all'interno di un tunnel schiaffeggiato dal forte vento una delle scene più evocative più emotive di tutto il racconto. Probabilmente ci sarebbe poi anche molto altro da esplorare molto altro da dire ma essendo una lettura semplice con un carattere anche abbastanza grande è una lettura che scurre molto rapidamente e anche il modo con il quale diventa coinvolgente se riusciamo ad abbracciare la psicologia del personaggio e le sue debolezze e fragilità è sicuramente una storia che ci trascina senza violenza ma con una forza incredibile. Io probabilmente non riesco a raccontarla così con freddezza a voi tramite una telecamera ma se mi scrivete nei commenti qui sotto se avete letto il libro visto il film e vi va di condividere la vostra di sicuro mi fa piacere e riuscirei anche a dire meglio forse la mia forse proprio perché sono ancora emotivamente attaccato a questo racconto per questo poi ve lo avevo proposto nella lettura di settembre sulla diversità perché anche questo è un modo diverso di vivere la vita probabilmente molto più borderline visti poi le reazioni di charlie ma entrare nella carne nella pelle nelle ossa di questo ragazzo penso che sia poi rinvigorente per tutti noi per cui io vi ringrazio per la visualizzazione per aver perso questo tempo con me spero vi sia piaciuto nel caso in cui sia così fatemelo sapere con un bel mi piace commentando la puntata e condividendola con i vostri amici vi ringrazio quindi per la visualizzazione iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella al lato per le notifiche mi trovate in tutti i social network che sono qui nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinoacenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono dario questa è recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronti a sfogliare una nuova storia e volare insieme nel mondo della fantasia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.